ecco come vendere una casa con mutuo in corso hai deciso di vendere casa ma sta ancora pagando il mutuo ti chiedi come dovrai comportarti e quali precauzioni prendere sono ottime domande perché una semplice vendita può nascondere delle piccole insidie analizzeremo in questo articolo alcune variabili le più importanti per non presentarci impreparati alla stipula dell'atto di vendita sono tre diverse varianti estinzione anticipata accollo del mutuo estinzione da parte dell'acquirente con risorse proprie o con accessione del mutuo estinzione anticipata è la soluzione più semplice ma anche quella più dispendiosa in cosa consiste siedere risorse economiche poi prima della stipula del rogito notarile estinguere il mutuo e chiedere contestualmente la cancellazione dell'ipoteca in questa maniera chi acquista sarà sicuro che l'immobile non avrà nessun gravame non tutti hanno la possibilità economica o la convenienza di seguire questa strada per cui si percorrono normalmente altre strade accollo del mutuo con questo metodo l'acquirente finale prende in carico il tuo mutuo se lo accolla e si renderà responsabile dei pagamenti delle rate devi però sapere che esistono due tipi di accollo l'accollo cumulativo e l'accollo liberatorio l'accollo cumulativo il primo tipo di accollo viene utilizzato di solito tra familiari ad esempio padre figlio perché sussistono particolari rischi che tra perfetti sconosciuti e meglio non condividere mi spiego meglio con l'accollo cumulativo si prenderà atto ed il notaio lo sancirà nel contratto di vendita che l'acquirente si accollerà il mutuo del venditore ed il conseguente pagamento dei ratei si comunicherà alla banca che è stato trovato questo tipo di accordo e quest'ultima ne prenderà atto sempre che nel contratto originario non sia presente una clausola che vieti l'accollo in genere le banche sono ben felici di questo tipo di accordo perché in difetti sui pagamenti saranno responsabili in solido entrambi i soggetti venditore e acquirente aumentando così la garanzia sul mutuo facciamo un rapido esempio tizio è proprietario di un immobile e ha un mutuo in corso su questo bene intende vendere a caio che decide di accollarsi il mutuo con l'assenso di tizio se caio avesse difficoltà a pagare il mutuo risponderebbe di questa inadempienza anche tizio la banca avrà in questo caso due garanti aumentando la possibilità di recuperare il credito l'accollo liberatorio è molto simile al precedente ma in questo caso è necessario informare la banca della volontà di cedere il mutuo a terzi l'istituto bancario se ha convenienza accetterà l'accollo e libererà con un apposito documento il precedente mutuario la differenza sostanziale tra due tipi di accollo che nel caso del liberatorio chi cede il mutuo potrà dormire sonni tranquilli perché non avrà alcuna responsabilità su eventuali inadempimenti il pagamento da parte dell'acquirente del residuo del mutuo questa è la pratica più frequente e può verificarsi con due diverse modalità il pagamento con risorse proprie o il pagamento tramite mutuo nel caso del pagamento con risorse proprie capita più spesso di quanto tu creda chi acquista abbia la liquidità necessaria per acquistare senza l'impiego di un finanziamento in questo caso l'acquirente il giorno dell'atto di vendita produrrà un assegno circolare pari all'importo del mutuo residuo e consegnerà il tutto al funzionario della banca che presenzierà a rogito l'ipoteca verrà cancellata e l'immobile sarà da considerarsi libero il pagamento tramite mutuo con questa metodologia le cose si complicano a livello di tempistiche perché rischiamo se siamo venditori di vedere i soldi che ci spettano dopo diversi giorni cerco di spiegarti quello che potrebbe succedere in maniera semplice devi sapere che le banche tendono a proteggersi dal rischio di fattibilità del venditore aspettando che si manifesti il consolidamento dell'ipoteca la legge dice che le ipoteche non sono revocabili se una volta trascritti e sono passate dieci giorni della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento dieci giorni quindi dieci giorni che servono alla banca per evitare il rischio di fallimento del venditore è bene sapere se la banca che eroga il mutuo intende avvalersi di questa protezione di modo che al momento della vendita tu sappia il giorno in cui potrà incassare le somme a te spettanti ti dico di più fallo scrivere sul contratto preliminare informi inoltre che molte banche anche se non sei un soggetto fallibile usano questo metodo è discutibile ma lo fanno ecco queste erano le informazioni che abbiamo ritenuto più importanti condividere con te ricorda solo un'ultima cosa richiedi alle banche il conteggio istintivo di modo che l'acquirente sappia per tempo come gestire gli importi degli assegni come sempre ti chiedo se ti è possibile di condividere questo articolo di continuare a leggere il nostro blog grazie e a presto